...di Natale, dentro per Asamoah, spazio dall'altra parte Quagliarella, Asamoah, grande intervento di Ballotta in calcio d'angolo. Sapata con Quagliarella, il colpo di testa di Rocchi, Quagliarella prova a calciare lui, Ballotta, ancora in angolo, che parata Ballotta. Spazio evita Kolarov, palla dentro, Asamoah, grande risposta di Ballotta in calcio d'angolo. E qui Asamoah alza gli occhi al cielo e dice, ma cosa devo fare io per segnare? D'Agostino, D'Agostino, prova D'Agostino, Ballotta in calcio d'angolo. Pallone per Antonio Di Natale, in chiusura c'è Kolarov, ancora Di Natale, prova il pallonetto schiaffeggiato in angolo da Ballotta. D'Agostino, colpo di testa e poi Ballotta pare a su Di Natale e riesce quasi per magia a ritrovarsi il pallone tra le mani. Marco Ballotta... Allora. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti